Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari, in primo piano come di consueto Il Bari torna in casa per affrontare il Picerno, la partita raccontata dai protagonisti del match Abbiamo fatto una prestazione molto pulita, precisa, di qualità, mi è piaciuto tanto l'atteggiamento della squadra anche la sicurezza con cui è stato in campo, pochissime sbavature da segnalare, questa è la strada Io lo dico e lo ripeto, per noi è fondamentale tirar fuori queste prestazioni fino alla fine perché noi abbiamo in questo momento qua una media giusta per arrivare bene e il problema è che da qui alla fine succedono tante partite strane dopo la media si abbassa, ma si abbassa per noi ma si abbassa anche per le altre e noi dobbiamo far sì che a noi la media non si abbassa Poi dobbiamo calcolare un altro aspetto che abbiamo incontrato in questo periodo il quale le squadre più in forma perché guardate Francavilla oggi ma guardate il Monopoli come ha strapazzato il Teramo quindi voglio dire, noi ci siamo, questo è importante Grossa, grossa, grossa emozione nel senso che è comunque un gol che cercavo da tanto che comunque mi leva dei pesi sulle spalle e non segnavo da parecchio tempo fino alle playoff dell'anno scorso quindi sono contento ma sono contento soprattutto per il gruppo, per la squadra perché ci dà entusiasmo, ci dà forza e noi dobbiamo correre sulle ali dell'entusiasmo sicuramente adesso in queste due trasferte dobbiamo fare questo piccolo passo in avanti però c'è anche da dire che le ultime due fuori casa abbiamo giocato contro due avversari molto tosti che comunque uno è sopra di noi e l'altra è leggermente sotto e non bisogna sottovalutare nessuno anche perché noi stiamo facendo qualcosa di straordinario davanti anche però noi dobbiamo cercare in tutti i modi noi e i tifosi dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungere il prima possibile quelli davanti Da mercoledì prossimo 19 febbraio fino al 23 Bari ospiterà 58 tra vescovi, patriarchi e cardinali provenienti da 20 paesi di tre continenti Europa, Asia e Africa per l'incontro Mediterraneo Frontiera di Pace a conclusione dell'evento la celebrazione eucaristica preseduta da Papa Francesco Tutti i dettagli nel servizio di Barbara Cirillo Un tratto di corso Vittorio Emanuele è chiuso al traffico quello compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari ma è solo l'inizio dei preparativi per la celebrazione eucaristica di Papa Francesco in programma domenica 23 febbraio Nei prossimi giorni di vieti di transito e fermata si estenderanno anche le vie adiacenti ma tutto sarà comunicato per tempo dalla segnaletica stradale che sarà fissa giorno per giorno Il 22 febbraio i locali su corso Vittorio Emanuele chiuderanno al pubblico per permettere alle forze dell'ordine di bonificare l'area che ospiterà non soltanto il Pontefice ma anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e probabilmente anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli Si comincia così con il montaggio del palco che proseguirà nei prossimi giorni Intanto in Basilica ci si prepara per l'inizio dei lavori di Mediterraneo Frontiera di Pace Mercoledì l'apertura della conferenza che per la prima volta riunisce vescovi delle chiese cattoliche che si affacciano sul bacino del Mediterraneo Giovedì si entra nel vivo dopo la messa in Basilica Ci si riunisce nel Castello Svevo e ci si confronta sul tema consegnare la fede alle generazioni future Dialogo e confronto, le parole d'ordine anche per la giornata successiva che ha come tema chiesa e società Incontri, tutti che porteranno alla scrittura di un documento che sarà poi presentato a Papa Francesco nella giornata conclusiva Si comincia dunque così ma il futuro potrebbe portare a una periodicità degli incontri proprio a Bari, da sempre ponte tra Oriente e Occidente Con uno spirito positivo e propositivo di una chiesa che vuole anche attraverso questa occasione lanciare un grande messaggio di pace E in continuità con un cammino finora vissuto non dimentichiamo che dalla traslazione di una reliquia di San Nicola a Mosca a San Pietroburgo all'incontro con il Patriarca Bartolomeo e poi il 7 luglio 2018 l'incontro del Papa con i patriarchi ortodossi e la chiesa evangelica per la pace nel Medio Oriente è un approdo ulteriore questo dei Vescovi del Medio Oriente però questi Vescovi sono cattolici questo va sottolineato perché la realtà del Mediterraneo è una realtà molto complessa quindi è un confronto tra i Vescovi cattolici che poi avranno la possibilità di presentare al Santo Padre il frutto di queste riflessioni l'intervento del Papa durante la celebrazione eucaristica del 23 suggerirà e da lui ascolteremo delle parole che siano di orientamento E' stato anticipato al 6 marzo lo sciopero della scuola indetto dai sindacati per difendere i diritti dei precari e protestare contro il mancato rispetto degli accordi sottoscritti con il governo in tema di abilitazioni, reclutamento e contratto la decisione di anticipare la data della mobilitazione inizialmente prevista per il 17 marzo riferisce la federazione Gilda Unams e dettata dall'urgenza e dalla gravità della posta in ballo e dalla totale chiusura dimostrata dalla ministra Azzolina la ministra aggiunge Maddalena Gisti il leader della Cisdra Scuola sta assumendo sempre più atteggiamenti di chiusura apprestandosi a compiere scelte in netto contrasto con gli obiettivi condivisi in mesi di trattative fra le parti Al Policlinico di Bari in funzione i nuovi mammografi quattro gli apparecchi dotati di tecnologia 3D che permetteranno diagnosi più rapide e più precise sentiamo quattro nuovi mammografi 3D che garantiscono l'individuazione di lesioni inferiori a 3 mm con un 20% in meno di raggi X la tecnologia continua a fare passi da gigante nell'unità operativa di senologia del Policlinico di Bari i quattro macchinari inaugurati oggi vanno ad integrare il nuovo sistema diagnostico della Breast Care Unit il centro di secondo livello unico in Italia che ha un afflusso medio di 100 pazienti al giorno e in cui è possibile accedere entro 48 ore da una diagnosi sospetta e soprattutto dei sistemi di biopsia 3D guidate in iso dose quindi vuol dire riconoscere lesioni sempre più piccole sempre meglio visualizzabili e possibilità di aggredirle con procedure bioptiche ad una dose di radiazioni sempre inferiori ci consentirà di migliorare tutti i percorsi diagnostici della Breast Unit di arruolare in questi percorsi sempre più pazienti affinché le nostre diagnosi siano soltanto un incidente di percorso ma non una condanna come magari lo era in passato Con il nuovo sistema dal 3 dicembre al 3 febbraio sono già state eseguite 77 biopsie 47.000 le prestazioni effettuate nella Breast Unit di senologia del Policlinico numeri che sono dalla parte delle donne soprattutto di quelle che combattono contro il cancro al seno Oggi la sopravvivenza è notevolmente aumentata riscontriamo lesioni sempre più subcliniche l'incidenza ovvero il numero di nuovi casi aumenta sempre di più ma questo è dovuto al fatto che la tecnologia consente di individuare lesioni sempre più piccole quindi ne riscontriamo molti di più ma ci si salva perché diventa soltanto una fase terapeutica e una parentesi della propria vita Intanto continuano i lavori di sostituzione dei seggiolini allo stadio San Nicola prima di posizionare riferisce l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli in un video pubblicato sul suo profilo Facebook la ditta sta provvedendo a resinare i vecchi fori e a ripristinare le zone delle gradinate che sono rovinate dopo averle ripulite l'assessore assicura verrà uno stadio molto bello Una strada di Bari dedicata a Leonardo Sciascia è la proposta della libreria Bari ignota che ha lanciato per questo una raccolta firme Una maratona letteraria dedicata alle opere di Leonardo Sciascia una delle più grandi figure del Novecento italiano ed europeo un pomeriggio nella libreria Bari ignota l'insegna della lettura e la scoperta dello scrittore siciliano impegnato in particolare sui temi della giustizia l'evento si inserisce nel ricco cartellone di iniziative promosse da Luigi Bramato e Francesco IV curatori della rubrica della Gazzetta del Mezzogiorno Bari ignota e che da un po' di tempo hanno lanciato una raccolta firme per intitolare Una strada di Bari a Leonardo Sciascia una proposta che nasce per omaggiare il forte regame tra lo scrittore e la nostra città basti pensare che proprio nel capoluogo pugliese Sciascia pubblicò nel 1956 con Vito la Terza Le parrocchie di Regalpetra libro che gli darà notorietà e successo è stato il libro che gli ha dato quella notorietà e successo che poi ha spianato la sua carriera di grande narratore italiano quindi non so se è il suo libro più famoso certamente il suo primo libro è importante ne ha pubblicati tanti altri ma a noi piace sempre rimarcare il legame con questa terra e quindi con Vito la Terza e quindi anche il merito dell'editore la Terza ed aver visto in lui veramente un grande scrittore cosa che è stata e le iniziative per la raccolta firme continuano il 2 aprile sarà presentato il libro di Gianfranco Dioguardi libro centrato sulla grande amicizia che lo legava a Leonardo Sciascia e proprio in quell'occasione la proposta di intitolare una via al grande scrittore siciliano verrà formalmente presentata all'amministrazione comunale nella speranza che questo sogno diventi realtà è venuto quasi spontaneo la necessità di dare voce far conoscere anche personaggi che finora erano stati dimenticati per esempio della nostra toponomastica e chi più di Sciascia per quelli che sono stati anche i legami sconosciuti quindi ignoti con la nostra città chi meglio di Sciascia poteva essere in un certo senso il primo e quindi il principale protagonista di questa iniziativa grande successo di pubblico ieri sera al teatro Piccini di Bari per il debutto nazionale della nave dolce lo spettacolo teatrale del Tib Teatro ispirato agli eventi dell'8 agosto 1991 quando la nave Vlora attraccò al porto di Bari una storia che parla di mare di una nave presa d'assalto una storia che parla più lingue che racconta diverse culture una storia che vive ancora sulla pelle di chi l'ha vissuta e la storia dell'8 agosto del 1991 quando nel porto di Bari attraccò la Vlora carica di 20.000 albanesi e oggi quella storia a distanza di quasi 29 anni viene ancora raccontata grazie allo spettacolo La nave dolce la nuova produzione di Tib Teatro che debutta in prima nazionale al teatro Piccini di Bari città in cui la memoria della Vlora è ancora viva un progetto importante che nasce dopo anni di ricerca e studio su documenti, giornali e filmati testimonianze importanti come quelle conservate negli archivi di Terebari un vero e proprio percorso di studio condiviso tra l'autrice e regista dello spettacolo Daniela Nicosia e l'attore Massimiliano Di Corato Un testo che sapesse guardare ai vari punti di vista prima di tutto coloro che si mettono in viaggio che si lasciano alle spalle le loro radici il loro paese poi chi accoglie e chi ed è la terza voce del nostro spettacolo e chi con stupore guarda questo enorme carico umano che arriva e per la prima volta sente la parola albanese Lo spettacolo evidenzia quanto la storia raccontata sia ancora contemporanea e quanto ancora oggi tristemente si ripeta e a narrarla un giovane attore barese all'epoca non ancora nato che sente però il forte bisogno di testimoniare quella vicenda è una storia che è avvenuta nella mia città ed è proprio per questo motivo geografico uno dei maggiori è stata una delle maggiori spinte per l'ideazione e la creazione di questo spettacolo che appunto nasce come un po' dalla scintilla sicuramente del bellissimo docufilm di Daniele Vicari appunto La nave dolce e poi dalla voglia di raccontare non solo la mia città ma come la mia città 30 anni fa quindi in un'epoca non sospetta si è saputa rapportare un evento di proporzioni colossali un evento che oggi si può dire che abbia anticipato di 30 anni quello che stiamo vivendo In occasione della festa di San Valentino il 14 febbraio all'Anche Cinema di Bari c'è stato lo spettacolo concerto Follie d'Amore a cura dell'associazione ACIS Un San Valentino in musica diverso dai soliti con Follie d'Amore il concerto è andato in scena durante la serata più romantica dell'anno all'Anche Cinema di Bari un evento artistico culturale del tutto inedito ispirato ai sentimenti dell'amore capace di mettere insieme musica danza e fotografia il progetto pensato e voluto dal maestro Leonardo Grittani è promosso dall'associazione culturale italo-spagnola ACIS Bari dalla trasmissione radiofonica barivale in onda su Radio Bari e dall'associazione di promozione sociale Bari e i colori del mondo punta a mettere in evidenza l'importanza di una visione sinergica delle arti questo spettacolo nasce da un'idea di Leonardo Grittani che è il direttore artistico dell'associazione italo-spagnola di cui io sono la presidente e nasce proprio dalla sua volontà di presentare l'amore sotto diverse sfaccettature i diversi volti dell'amore un amore visto a 360 gradi un intreccio tra musica e fotografia lo spettacolo è stato infatti arricchito dalla presenza nell'anche cinema di una mostra fotografica a cura di Bari e i colori del mondo risultato del primo concorso fotografico internazionale i sensi dell'amore che mira a riconoscere l'amore sotto tutte le sue sfaccettature immagini delicate e forti a colori in bianco e nero e durante lo spettacolo sono stati premiati sul palco i tre vincitori del concorso fotografico che si sono distinti tra gli altri con i loro scatti la giuria era formata da quattro fotografi professionisti una storica d'arte e poi la delegata regionale della FIAF quindi il criterio era ovviamente la tecnica fotografica in primis e poi l'attinenza al tema perché uscendo fuori tema ovviamente insomma non potevi arrivare tra le prime eventi inaugurata ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Teresa dei Maschi la mostra Mediterraneo frontiera di pace questa mostra si può dire che è l'unico evento collaterale a questo convegno che inizia il 19 febbraio si concluderà il 23 con la venuta di Papa Francesco a Bari è una mostra che ci è stata richiesta espressamente dall'Arcidiocesi di Bari di organizzarla e quindi noi abbiamo subito accettato l'invito ad organizzarla ci abbiamo messo otto mesi per fare la selezione di tutti gli artisti e oggi l'abbiamo aperta e siamo più che contenti felici del risultato che sta ottenendo incontro di tantissimi artisti di varie nazionalità qual è il fil rouge della mostra? il fil rouge è chiaramente il titolo Mediterraneo frontiera di pace quindi non velatamente si è chiesto agli artisti di esprimersi su quello che è l'esodo oggi quindi il nuovo esodo questo che accade nel Mediterraneo dei migranti che arrivano da noi non è altro che un esodo come quello che accade insomma qualche miliardo di anni fa con Mosè che è attraverso il mare quando sarà possibile visitare questa mostra? questa mostra è possibile visitarla tutti i giorni tranne lunedì dalle 10 alle 13 dalle 17 alle 19 fino al primo marzo e per la rubrica di arte e cultura cura di Isabella Cedro parliamo oggi della poesia di Giovanni Dotoli tra nostalgia e futuro la rubrica di arte e cultura si è già occupata di pugliesi il cui merito è stato riconosciuto all'estero in questo panorama uno sguardo particolare va a Giovanni Dotoli professore ordinario di lingua e letteratura francese presso l'Università di Bari commendatore nell'ordine delle palme accademiche nel 1999 gli è conferito il titolo ufficiale della Legione d'Onore per altri meriti scientifici e culturali e nel 2000 ottiene il Grand Prix dell'Accadémie Française al di là dei numerosi altri riconoscimenti ricordiamo l'attività di Visiting Professor all'Università di Chicago e all'Ecole Normale Superiore di Parigi è autore di circa mille pubblicazioni tra volumi monografie atti di convegni e raccolte poetiche è direttore di numerose collane e riviste scientifiche nazionali ed internazionali le sue ricerche riguardano oltre alla letteratura e alla linguistica francese dal XVI al XXI secolo la letteratura e la cultura popolari le avanguardie la francofonia mediterranea del Quebec i rapporti tra le arti la traduzione e potremmo continuare nel mare sterminato che costituisce il suo pensiero e la sua produzione ma oggi ci vogliamo soffermare sulla sua attività di poeta bilingue già tradotto in diverse lingue straniere l'intera attività poetica è raccolta nel volume in lingua italiana La Rosa del Punto e per la poesia in lingua francese nella raccolta Je la vie immensa mi sei apparsa con il tuo lungomare blu le rette delle tue strade il groviglio della città vecchia volavano i palazzi per stelle con te Bari ho subito sognato la via per andare oltre dietro le stelle a cercare un barlume di felicità nel vento d'oriente sulla rotta del mio destino la mia poesia ha le sue origini in Puglia ma si irradia verso il mondo si irradia verso i paesi le città i luoghi che ho conosciuto con cui collaboro con cui lavoro scientificamente ed anche poeticamente Bari il mondo la Puglia Parigi la Francia il Mediterraneo e adesso le previsioni del tempo per i prossimi giorni con il nostro esperto il colonnello Vita Antonio Laricchia bene buongiorno buongiorno a tutti come al solito passata la boriana ed ecco il nostro amico maestrale che soffia in maniera moderata è allontanato velocemente il corpo nuvoloso che ci ha interessato il pronto giorno di San Valentino cala il vento di Maestrale che ci ha regalato e ci regalerà meglio che un bellissimo weekend i venti gireranno a Scirocco ma ancora tempo stabile e soleggiato purtroppo per ancora alta pressione quindi l'inverno nemmeno a parlarne e andremo avanti così fino a mercoledì quando il vento di Scirocco tenderà a rinforzare richiama una perturbazione atlantica di nuovo maltempo tra giovedì e venerdì con qualche pioggia qualche sporadico isolato rovescio temporale temperature ancora frizzanti però ancora una volta per quanto riguarda il fine settimana ci sbilanciamo perché la domenica ci sarà la vista del Papa a Bari vi assicuro il tempo splendido come questo weekend all'insegna dell'amico maestrale cedi sereni o poco nuvolosi e per questa edizione serale del telegiornale è davvero tutto grazie per averci seguito a tutti un buon proseguimento di serata il meteo è offerto da sgservicesud.it ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo lunedì il Mediterraneo sarà sempre interessato dall'anticiclone alta pressione che domina la scena con il suo cuore emite le temperature primaverili al centro-sud Balcani e Grecia forti perturbazioni invece viaggeranno dall'oceano verso Levante su tutto il nord Europa tra isole britanniche Francia, Germania, Scandinavia venti tempestosi burrascosi specie sul mare del nord andiamo a vedere la situazione quindi sull'Italia vi segnalo un piccolo cambiamento un lieve cedimento di quest'alta pressione al nord con qualche piovigine al nord ovest ma poi soprattutto delle deboli piogge bagneranno la Liguria e l'alta Toscana altrove il centro-sud sempre dominio dell'alta pressione possiamo notare queste isobare arancioni indici appunto di pressione elevata cosa succede dal punto di vista meteo la nuvolosità irregolare di passaggio al centro-nord è più compatta proprio al nord-ovest sull'alto nord-est e Liguria qui qualche fenomeno in arrivo durante la giornata il sole invece al centro-sud della prossima grafica ci conferma di fatti oltre al sole delle temperature primaverili che sfioreranno i 20 gradi sulle isole maggiori la Puglia la Basilicata la Calabria mentre delle deboli piogge inizieranno a bagnare la Liguria l'alta Toscana e poi giornata nord-ovest specie Lombardia qualche piovigile non esclusa anche sul nord-est maggiori dettagli però scaricando l'app di Trevi Meteo Il Meteo è offerto da SGServiceSud.it